Guarda, ti dico, se devo dirti la roba che mi dà più fastidio di tutte in questo momento è essere quello lì di Sanremo, capito? Quello di cenere. Cioè, siamo... Piacere, tafazzi. Minchia, ma tu sei tafazzi! Perché? Perché, perché... Perché l'ho fatto. Sì, non lo so, ma ti scambiano così. Sì, perché lo scoprirai. Una signora un giorno mi ha detto, eh, tu sei cenere. Tu sei cenere! E tu sei la stronza, volevo dire. No! Qui, direttamente dal teatro Oscar in Milano, ladies and gentlemen, L'Azza! Anzi, aspetta. Fammi fare un ingresso da fan. Mi alzo, mi alzo. Un rapper alla mia altezza, finalmente. Che ne avevamo invitati due, volevo guardarli così. Vabbè, comunque, siediti, va. Ah, già, devo fare le domande io, che pirla. Allora, dai, cominciamo proprio qui. Senti, ma tu, da ragazzino, sognavi di fare il cantante? Ma, allora, precisamente non sognavo di fare il cantante, sognavo però di fare musica. Cioè, ho iniziato a studiare uno strumento quando ero... Primo strumento che hai preso in mano? Una tastiera, grossa così, più o meno. Primo, così. Che mi ha regalato mio nonno. E sì, ho iniziato a suonare questa tastiera da bambino, cercavo di, insomma, un po' riprodurre le sigle dei cartoni animati. Aspetta, aspetta. Fai il saluto romano, fai, no? A parte che è con la sinistra, no, però. Ma la tastiera era quella lì, con i tasti colorati, che pim, tam, è quella dei bambini che scassano i maroni, dai 3 ai 8 anni, sempre quello. Io ero bravo, però, te lo dico. Eri bravo, va bene. Mio figlio non era tanto bravo. Mandalo da me. Ormai è passato il tempo, quindi, adesso suona la chitarra. Quindi, va bene, tastiera, poi? Tastiera, poi, insomma, mi sono appassionato a questo strumento qua, sai, quando mi ha regalato questa tastiera qua, io suonavo con una mano sola, andavo a cercare un po' di andare a orecchio, ripare, appunto, le sigle dei cartoni animati, poi ho voluto mettere anche la mano sinistra, giustamente. Quindi, ho iniziato a prendere lezioni private. Niente, ho questo ricordo bellissimo della terza lezione privata a cui, appunto, frequentavo. Viene mia madre a prendermi. Mia madre, abbastanza prevenuta, perché era un bambino un po' vivace, no? Combinavo sempre una a scuola. Niente, viene a prendermi, esce, era il mio maestro di pianoforte con i capelli dritti, no? Ma fa cosa ha combinato? Fa signora, suo figlio fa quello che vuole lui. È arrivato oggi, quando gli ho chiesto se avesse fatto i compiti, che erano troppo facili, secondo lui, i miei compiti. Quindi si è presentato con una sonata di Beethoven alla terza lezione. E da lì ho iniziato a capire che forse era il mio, quella roba lì, no? E quindi poi... Poi sono andato avanti, conservatorio. Conservatorio. Solo che poi nel frattempo ho scoperto il rap e... E lì. Insomma, mi ha un po' destabilizzato, no? Beh, però... Sì, poi crescendo abbiamo unito le cose. Eh, fatti, 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 fatti. No, perché, sai, da ragazzini, io sognavo di fare il calciatore, però il fisico non mi ha aiutato, no? Io, papà, mio zio erano calciatori, le vedi legge del contrapasso, io non c'entravo niente col calcio. Sognavo di fare l'avvocato, non c'è stato niente da fare, quindi ho fatto quello che ho fatto. Però, insomma, però qualcosina di sogno ce l'avevi e si è un po' realizzato, no? Di base sì, cioè io volevo proprio fare musica nella vita. Io spaccavo da una parte o spaccavo da l'altra, cioè o facevo il cantante come faccio oggi o probabilmente avrei fatto il pianista. Ma ascolta, vabbè, ma alla tua età sarei stato influenzato da certi tipi di musica, cos'hai ascoltato, cos'è che ti ha colpito, no? Guarda, in realtà, a parte il metal, per cui non simpatizzo tantissimo, adesso non so neanche se è metal, è quel genere proprio dove strillano, che urlano, che sembrano dei canti satanici. Da boomer direi di sì, no? Però di base quasi tutto mi piace, mi piace il jazz tanto, la classica suono volentieri. Te la saprei anche suonare, insomma, no? Sì, una volta ero più bravo, non avevo più tempo di studiare. E vabbè, il rap, mi piace chi lo sa fare. Ci sono tanti scarsi italiani oggi, mamma mia. Non facciamo i nomi, vero? Non li facciamo. Basta che lo sanno loro, che sono consapevoli. Chissà se lo sanno, tra l'altro. Sì, lo sanno, fanno finta di no, ma lo sanno. Fanno finta di no, ma lo sanno. Ma ecco, ascolta, aiuta sempre il boomer che è in me, no? Cioè, come ti devo definire? Sei un rapper? Sei un... Come vuoi tu? No, 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 no. E cazzo ne so. Boh, non lo so, io non... No, non è che voglio etichettare. Non so, è proprio questo il punto. No, perché secondo me tu non sei facilmente etichettabile, no? Cioè, tu hai fatto cose da rapper, mi verrebbe da dire, no? Hai anche un certo stile, una certa liturgia del rapper, il vestiario... Ma ne parliamo dopo, no? Però ecco, musicalmente... Non lo so, non... Non lo sai. Io non mi etichetterai, se devo dirti. Ma infatti, quando sei andato a Sanremo, che è partito un po' tutto, non che prima tu non fossi bravo, ma diciamo che questa esibizione a Sanremo ti ha un po' consacrato, no? E ti ha... Con questa canzone che mi piace tantissimo... Grazie. E' quasi romantica la definirei, no? Epica, romantica, non so, ma io sono un cretino nelle definizioni. No. Cioè, quindi... Ma non lo so, in realtà, guarda, io ci tengo tanto a precisare, ci sono tante persone che giustamente sono un pubblico nuovo post Sanremo, che purtroppo pensano che io prima non ho fatto niente, capito? Invece entravo lì dentro con un disco da cinque platini, però vabbè... Hai lavorato tantissimo, prima di dire. Tanto, tanto. Ho prodotto anche tanto. Ho lavorato, abbiamo lavorato. Certo. Poi io ci tengo sempre a far presente che c'è un team incredibile che lavora con me. So che spesso molti si scordano, io sono molto attaccato alle persone con cui lavoro. Abbiamo lavorato tanto, ma soprattutto bene. Cioè, abbiamo fatto delle cose che non ti dico che per me fossero irraggiungibili, ma quasi, nel senso, non ci pensavo. Cioè, ci pensavo, ma tra un bel po'. Diciamo che è arrivato tutto prima rispetto a quello che mi aspettavo. E senti... Giusto, giusto. Cazzo applauso io, tra l'altro. No, ma, cioè, lui è uno pagato al teatro che ogni minuto ci ha capito. Giustamente, no, perché, no. E... Cita un TikTok di quelli che ci sono che fanno partire l'applauso. Sì, sì, ci sono i Scaldapubblico, no. Però qua siamo riusciti a pagare solo uno. Scaldapubblico. Che cazzo di lavoro è? Il cazzo c'entra adesso! Cioè, deve giustificare i 30 euro che gli do, ha capito, no? Comunque, sta roba dello Scaldapubblico. Sai che, tanti anni fa, quando cominciavo, io e Giovanni cominciavamo, no? C'era una trasmissione condotta dalla Eva Zanicki, ok, il prezzo è giusto, non lo so, non mi ricordo neanche più, un po' rimosso, no? Sulle reti medie. E c'era il pubblico, e il pubblico è un pubblico di comparse, è pagato, no? E io ancora dovevo cominciare, e mi avevano proposto di fare lo Scaldapubblico, non ad applaudire, andare lì a dire un po' di repertorio, eh, ciao, ciao, copporetti, così, tenerli belli allegri prima che arrivasse il cosa, no? Ti zitti. No. Ma come? C'ero scarsissimo anche come Scaldapubblico. E ho detto, vengo anche da domani, dai Nino, dai, via, Fiora di Ball, no? È andata bene adesso comunque, no? Eh? Adesso è andata bene, no? Ma per dire, tu hai nominato Scaldapubblico, mi è venuto... C'è che ha detto? Uno a uno. Ho detto di non dirlo, cazzo! Voglio andare a casa a vederla! Stai registrando? Dai che bastardo, lui è lui. Sono due, pensa, hanno pagato il biglietto e sono qui che guardano la partita. Non potevi stare a casa tua a vedere la partita, cazzo? Comunque sono contento che abbia pareggiato. Allora, senti Jacopo, senti, il giorno dopo Sanremo, immagino, perché anche noi abbiamo vissuto un po' questo tipo di situazione, la vita è un po' rivoluzionata, no? Sì, sì. Io mi sono reso conto il giorno stesso, finito Sanremo, che sono entrato all'autogrill e non potevo più entrare. Però ti dirò che c'è un fatto... Eh, raccontaci, come l'hai vissuta sta roba? C'ho questo aneddoto che mi fa un sacco ridere. Praticamente, vabbè, andiamo via da Sanremo la domenica dopo, no? Facciamo la puntata con la Mara Veniera, andiamo via. Grande Mara. Grande, sì. Niente, arriviamo in autogrill e mi dicono, guarda, non so se è il caso che scendi. No, no, scendo, volevo mangiare qualcosa. Era una settimana che vedevo solo la strada dall'hotel al teatro Aristone e viceversa. Fatemi vedere un autogrill, cioè, fatemi vedere qualcosa. E c'è? Che desiderio, eh? Voglio vedere un autogrill. Ma io sono uno di poche pretese. Volevo vedere solo un autogrill. Ma io ti capisco, io, cioè... Non ho chiesto niente. Non ho chiesto niente di mangiare il fattori all'autogrill, è una roba meravigliosa. Non hai reagito a nessuno. Il menù lo so a memoria, io comunque. Sei a memoria. Sì, sì. Vabbè, comunque scendo e praticamente, insomma, mi accorgo di avere un pubblico che non avevo, nuovo. Insomma, fra tutti questi a un certo punto arriva questo somaro con il pass della Rai che chiede alle 30 persone che mi stavano fermando, ma chi è? Io dico, scusate, dove cazzo sei stato fino adesso? Eh no, in Rai, non vedi? Ero a lavorare a Sanremo. Eh, però, un coglione. Te lo giuro che è successo. Poi, guarda, ci sono un paio del mio staff lì, puoi chiedere, puoi chiedere con vero. No, ma ci credo, anche se hanno delle facce poco raccomandabili, ma ci credo. No, ma racconti, ma come, vabbè, è emozionante, cioè la gente, ma come la stai vivendo? No, è bello, è bello, quando mi ferma l'asciura che potrebbe essere mia nonna, mi fa piacere, capito? Ieri, un altro ieri sono andato a comprarmi il ping pong alla Decathlon, perché è l'unica cosa bella di sto terrazzo che sta facendo la mia ragazza, che finalmente posso mettere un ping pong, e vado a comprarmi questo ping pong, arriva questa asciura sulla settantina d'anni che mi fa gioia, complimenti. Ma non sono abituato, perché mi sto sarremo, sennò sarai uno inchiostrato in faccia, un brutto esempio, capito? Esatto, tipo, tipo, quella roba lì. Va, va, ti ha i bracci, se puoi uscire la maniera lì. Brudrugà! Eh, anche. Non so, conosco, eh. Che ad Aldo gli hanno detto di ogni, no? Sì, ma l'apparenza inganna. Sai che una volta, questa la devo, è verissima, no? Ci conoscevamo, cioè, lavoravamo da pochissimo insieme e Aldo ha vissuto con me per sei mesi, una tragedia, ma lasciamo, non voglio addentrarmi nei particolari. A un certo punto, una mattina esce, figurati se io e lui avevamo le cose per fare la colazione in casa, lui esce, va al bar, tutto trasandato, com'è, eccetera, eccetera, lo ferma una battuta dei carabinieri e gli dice, dai, dammi la spada. Ma perché? Ma in che senso? E c'ha la faccia da drogato, però, dai, dammi la spada. E Aldo sai cosa gli ha detto? E chi sono, d'Artagnan? E' vero. Ha rischiato, eh. Ha rischiato che lo portassero via, poi dopo han capito che, vabbè. Che genio. Così. Beh, per la gloria questo è altro, io mi sarei fatto portare via, sinceramente. No, vabbè, insomma, quindi stai vivendo tutta questa bella fase eccitante, il pubblico ti vuol bene, ti riconosce. Sì, è tutto bellissimo. È tutto bellissimo, no? E ovviamente un po' inaspettato, desiderato, ma inaspettato, immagino, no? Eh, non sai mai come, insomma, come possano andare le cose, nel senso, io tutti i giorni, anche oggi che sono io, penso che domani può finire tutto, quindi devo lavorare ancora meglio. Ma c'è qualcosa che ti dà fastidio di questa cosa, oppure no? Sì, guarda, ti dico, se devo dirti la roba che mi dà più fastidio di tutte in questo momento è essere quello lì di Sanremo, capito? Quello di cenere. Cioè, siamo... Piacere, tafazzi. Minchia, ma tu sei tafazzi! Ma perché? Ma perché? Perché l'ho fatto. Sì, non lo so, ma ti scambiano così. Sì, perché lo scoprirai. Una signora un giorno mi ha detto, eh, tu sei cenere. Tu sei cenere! E tu sei una stronza, volevo dire. No, ma magari voleva dirti una cosa. In realtà le ho risposto, fortunatamente, ancora no. Sai, in effetti siamo un po' tutti cenere, no? Sai, detto, polvere siamo e polvere ritorneremo. Certo. E gli esqui mesi? E più polvere c'è, più l'uomo è fatto, sapevo io. L'uomo è fatto di polvere, no, no. Dipende, è scherzato. Ah, beh, insomma, preparati perché non sempre l'uomo corrisponde al personaggio, no? Immagino che tu lo abbia già compreso, però è così, è il bello e il brutto di queste cose, no? Perché credo che la gente ti vuole bene, no? E quindi, insomma, sei quella roba lì per adesso, no? Ma di solito, guarda, io sono abituato a ricevere un sacco di critiche dalla gente che purtroppo non mi conosce. Cioè, la gente si fa un'idea di me che poi non è... Che tipo di critiche? Eh, la gente da fuori... Allora, partiamo dal presupposto che io ho sempre sta faccia che sembro imbruttito. Ti sembra che ce l'ho sempre con qualcuno, che mi è sempre successo qualcosa. In realtà, no. Ho solo sta faccia di culo qua che mi hanno fatto. E questo è... Ma in realtà poi se mi conosci, sai che sono una persona disponibile, generosa. Mi è capitato per dirti che mi hanno scritto dei fan in posta dicendomi, oh, passi da casa? È una richiesta assurda per un fan, cioè mai si aspetterebbe che passo. E sono passato, per esempio, cioè... E ti hai bevuto tutto il vino che c'avevano? No, anzi, ho portato pure un regalo sotto casa. Questo per dirti che in realtà non è che sono una merda come vedono da fuori molti, cioè come pensano molti più che altro. Perché mi arrivano ste robe, mi fai mai un sorriso, mi dicono. Non so perché mi dicono sta cosa, ma poi non sembra che non rido mai. Quindi cos'è che dico? Che non sorridi? Che te la tiri? Che sembro uno che se la tira, che sembro uno stronzo, che tratta male i fan. Non è vero. Ti giuro che non è vero. Ma credo. Cioè, t'ho trattato male? Un pochino sì, però. Un pochino sì, però lasciamo perdere. E se non avessi fatto... No, tu in parte mi hai già risposto. Però ho detto io nella musica comunque... Ci sarei comunque arrivato nella musica. Quindi, sai, c'è una domanda che mi son preparato, ma che non ha risposto. Se non avessi fatto questo, cosa avresti fatto nella vita? Sarei rimasto in cantiere, probabilmente, dove andavo a lavorare per pagarmi le vacanze. Cioè? C'è il muratore? No, andavo a montare i climatizzatori. Ero bravo anche, te lo giuro. Pogliavo uno sputo di stipendio, tipo 300 euro. Però ero contento. Cos'era? Che marca erano? Eh, eri montati un po' a Daiki, in Mitsubishi. Sei stato anche in Porta Romana a montare qualcuno? Eh, quello è il mio che non funziona. Cazzo, è bello. Regalavi il fresco o il caldo, se c'è l'inverter, alle persone. Insomma, dai, non male. Facevo quello lì. Facevi quello lì. Facevo quel lavoro lì. Facevi quello lì. Eh, beh, insomma. Però ti devo dire che mi piaceva, cioè mi divertiva. Comunque poi, io sono una persona stracompetitiva. Sì. Perciò se metto la testa in una cosa, devo farla e devo farla bene, devo farla meglio di tutti, capito? Cioè, cazzo, o vincere Sanremo o il re dei condizionatori. Esatto, tipo. Sì, sì, sì. Lazza, condizionatori! Volete stare al fresco? Rivolgetevi a Lazza, no? Che cagata, bruttissima. Brutto, 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 brutto. Senti un po'. Ma, quindi, studi, in qualche modo studi classici, no? Ti hanno, ma ti è piaciuto anche, oltre alla musica classica, letteratura, cinema, ti interessano minimamente? Il cinema mi piace un sacco, sono un patito di film. Infatti, prima in camerino mi ha nominato un film per fare un esempio bellissimo che io ho amato. Benjamin Button, no? Benjamin Button, sì. Benjamin, io parlo, sono di Manchester io, quindi ho una cadenza un po'. Benjamin Button, infatti, sono considerati un po' i terroni quelli di Manchester in Inghilterra. Sì, eh, dici? Stavo per fare una battuta sul calcio e non la faccio. Palla! Palla! Tanto so che prima o poi una... Prima o poi esce. Prima o poi la facciamo, dai. Cazzo, ti ho nominato... Bel film quello lì. Ti ho nominato Manchester per quello che ti ho attizzato. Sì, per quello. Vabbè, comunque, a parte Benjamin... Cazzo, dovevi di applaudire, se sei addormentato! Se sei addormentato! Una porca, vai. Ti dispiace se tolgo la giacca? No. Perché mi devi dispiacere? Che ne so, magari cazzo, no io voglio essere intervistato... Perché c'è qualcuno che gli dispiace se qualcun altro si toglie la giacca. Sai che quando si va in casa, no? Che se lì ti invitan se scusa... No, voi no, perché voi vi vestite di merda, così non avete bisogno. Grazie, però... Prego. Ma posso togliere la giacca? La padrona di casa, la padrona di casa, certo. No, ti immagini no? No, vabbè. Che ero un piccolione, però. E ma che modi! E vabbè, ma che modi! Dai, dimmi qualche film che ti è piaciuto. Vabbè, su tutti... De Snatch, impazzisco. Come? De Snatch. Ah, De Snatch. Boh, Training Day mi è piaciuto tanto, sono tanto fan di Denzel Washington, ti dico, quindi... Di base tutti, The Equalizer, Man on Fire, sono tanti film che mi piacciono, non saprei dirti. Il mio preferito su tutti forse è De Snatch. Perché Brad Pitt che... Chi ce l'hanno? Ce l'ha con te? Cos'è che ha detto? Questo ce lo conosci. Lo conosci? Ma a chi l'hai fatta la domanda? A me o a lui? Certo che lo conosco. Dubiti che io non conosca The Snatch? E Gibbersnabas che ha detto? Il Feffersnabas che li conosco tutti, a me l'ha detto, li conosco. Dedi, ma c'è un po' d'acqua. Inchia, certo che c'è l'acqua. Certo che c'è l'acqua. Se vuoi tu vuoi togliere la giacca adesso? No, la tengo adesso. Aspetta, va che perdi il pacemaker. So già che mi faranno un culo in regia, no? Vi vengo incontro. Vedi che mi fanno i ceni. Riesce ad alzare un po' il cappello? Sì, voglio. Lo giro, guardo. Grande! No, non perché sia brutto, figure, è che così adesso ti si vede bene in tutta la tua espressività e bellezza e vada via il ciuaccio. Era vera solo la terza delle tante idee. Ascolta, toglimi sta curiosità. Vai. Quanto è importante l'abito nella tua professione? Guarda, io stasera sono venuto vestito come un palazzaro, mi ero preso anche un bel outfit per venire qua stasera. Un bel outfit? Un bel outfit, outfit, outfit. Yes. Hai visto, anch'io sono di Manchester. Bravo, bravo. E come era la sua storia? Mi ero preso un bel completo per venire, ho detto comunque vado a teatro, mi vesto una minima elegante perché comunque, cioè, sono sempre in giro che non mi si può vedere. Beh, però non mi si può vedere. Era per farmi dire non è vero. Lo so che non è vero. No, no, non è vero. Cioè, in realtà, in realtà è una specie, non è una critica, ma è una specie di divisa, no? Sì, dipende. È importante fino a un certo punto, nel senso, io penso che ci sono tante cose che caratterizzano un artista, ma anche una persona, anche soltanto una persona, non c'è per forza bisogno di essere un artista. l'outfit, diciamo che è una bella, è una cosa che se ti fa piacere dargli peso, glielo dai, ma deve essere una cosa che fa piacere a te. Senti, c'è qualcosa che ti spaventa nella vita? Sì, le tasse. C'è qualcosa che ti spaventa di più delle tasse? Sì, pagarle. Una volta che le hai pagate e non hai più soldi, c'è ancora qualcosa che potrebbe spaventarti? Non dirmi le prossime tasse, perché è scontata. Non lo so, non so dire, qualcosa che mi spaventa, ma di base mi spaventa, che ne so, che magari domani perdo la testa e non riesco più a fare il mio lavoro bene come lo sto facendo. O magari arriva uno più bravo di me che mi ruba il posto, capito? Tutto può essere. Poi oddio, che mi ruba il posto non lo so, mi sembra che c'è posto per tutti comunque. Sì, posto per tutti c'è. Però, si può mai sapere. Sostanzialmente paure e preoccupazioni legate alla professione, no? Sì. Guarda, se ti dico una cosa di cui sono sicuro è che non cambiano mai come persona. Le persone che mi conoscono dall'inizio me lo dicono tutti i giorni. Mi fa un sacco piacere che me lo facciano presente, che gli sembra di vedere la stessa persona di quando hai iniziato. Perciò. mi sembra di capire, ne parlavamo anche un po' prima, che l'amicizia è una cosa importante nella tua vita, o no? O mi sbaglio? Assolutamente. Quanto è importante? Per me è tantissimo. Dopo la famiglia, l'amicizia è... Ma è importante, diciamo che, sai, specialmente se sei uno che fa un percorso come il mio o come il tuo, che comunque arrivi a un punto che, insomma, tutti vogliono dire di essere amici miei o tuoi, no? Tutti, tranne gli interisti, nel mio caso, e i milanisti, nel tuo. Ma io mi piacerebbe diventare tuo amico, eh? No, beh, adesso... Ma guarda che ci sono, guarda che, vedi che alla fine ne parliamo, guarda che ci sono tanti, poi a Milano, Beh, Lukaku è mio amico, fai tu. Posso dirti solo questo? Romelu? Come cazzo fai? Ma no, ma volevo dire questa cosa che a Milano, che credo sia diverso dalle altre città, c'è un tifo molto acceso e tra le varie tifoserie c'è molto sfottò, molto... Però, beh, capita poi, no? Io ho tantissimi amici milanisti e viceversa, quindi non è un problema. No, no, era per dire. No, comunque, dico, io ho gli stessi amici di quando, appunto, avevo 13, 14 anni. Beh, bellissimo. Poi qualcuno, qualcuno sicuramente si è aggiunto, mi ha dimostrato di essere una persona fedele, appunto, di essere una persona di cui ci si può fidare, quindi, ho anche amici nuovi, per carità. Però, diciamo che, insomma, crescendo artisticamente e anche crescendo di età, ho conosciuto tante persone che mi hanno fatto un po' di dispettice, che mi hanno un po' deluso, magari, e che ho a fatica tagliato fuori. Perché poi a me me la devi proprio fare sotto al naso, perché me ne accorga, se no farò finta di niente, capito? Però è successo. Pensa che è brutto, io penso sempre a questa roba, pensa che è brutto se raggiungi un traguardo gigante e comunque non hai nessuno con cui lo puoi condividere. Terribile, bravo. C'è una roba bruttissima. Cioè, tipo, io banalmente faccio un pezzo bello in studio, stasera magari vado in studio, faccio un pezzo che secondo me è la hit più grossa che avrò per i prossimi due anni. La prima cosa che faccio torno a casa e dico alla mia ragazza oh, senti che roba ho fatto, pure che fossero le 4 di mattina lo farei. Subito, tiro fuori il pezzo dal computer e lo mando al mio manager immediatamente. Sono proprio queste le cose per cui secondo me è importante avere delle persone di riferimento. Beh, no, è talmente bello e giusto quello che dici che forse dirò un'ovvietà ma qualsiasi artista diciamo che sia un cantante un comico uno scrittore un pittore non è che la cosa la fa per lui almeno ci deve essere un'altra persona che lo apprezzi che lo comprenda ti dirò perché senza quella roba lì sarebbe un po' ci si sentirebbe molto molto soli anche se hai scritto l'hit più bello della vita io non ho mai fatto musica per gli altri ti dirò questa cosa no, non per gli altri ma inconsapevolmente ma scusami sai perché lo dico? perché il lavoro che si fa il tuo e il mio è una specie di dialogo sì certo assolutamente è un dialogo infatti poi quando litighi con le persone che hai vicine ti incazzi perché io spesso mi incazzo dico ma com'è possibile che riesco a farmi capire da centinaia di migliaia di persone che non mi conoscono e tu che sei qua non capisci cioè mi è successa questa cosa però per dirti io davvero non ho mai scritto col fine di arrivare alla gente e forse per quello che poi ci sono arrivato non so come dire sì ma perché c'è un desiderio di esprimere un qualcosa no? sì diciamo che era la forma più facile che avevo per comunicare fare musica mi fa mi fa esprimere al meglio delle mie possibilità credo cioè sono convinto di questa cosa ma tutti io me ne sono fatte queste menate mentali poi non ci sono riuscito ho rischiato ad andare dal neurologo lasciato perdere no? ma per esempio la musica ma tu sapresti dire perché ci scatena queste emozioni dentro di noi cioè ci sono degli accordi delle cose che o ti gasano o ti fan piangere addirittura o sai che secondo me è una questione di frequenze non ti voglio dire una cazzata però le ho già detta io la cazzata vai avanti ma mi ricordo che una delle poche volte che stavo leggendo ero andato a leggermi una di queste cose una delle cose una delle ipotesi era proprio questo secondo me deve essere proprio una questione di frequenze di suono che ci sono delle appunto delle onde sonore che muovono delle cose nell'essere umano che arrivano in corrispondenza di certi centri nervosi non so come funziona comunque vedi che leggere non fa male proprio ogni tanto è verissimo però rimane sempre un mistero come mai dei suoni riescono a scatenare delle cose meravigliose per ognuno è anche soggettiva la cosa certo è sicuramente soggettiva e programmi futuri il tour l'hai già detto programmi futuri spero finito il tour di riuscire ad andare finalmente in America per la prima volta perché tu devi sapere che io fino a due anni fa non avevo neanche il passaporto non sei battezzato non c'è il passaporto dine un'altra fino a 24 anni non avevo la patente e che ne so e dine un'altra e non ce l'ho dimmene una tu prova improvvisa vediamo no spero di andare in America perché comunque sia sai oggi per fortuna i social servono anche a qualcosa di positivo e quindi diciamo che sono un bel mezzo per fare pubbliche relazioni quindi ho la fortuna di avere tanti contatti all'estero e insomma spero di poter andare a conoscere della gente con cui vorrei lavorare e insomma il prossimo album che farò uscire in gran parte vorrei curarlo lì dove in che città eh più di una vorrei fare un bel giro sicuramente ho contatti a Los Angeles a New York a Miami o qualcuno mi piacerebbe andare a beccare magari qualche artista latino tipo a Porto Rico vediamo vorrei fare un bel giro vorrei stare via da casa un mese e mezzo ti piacciono i cani? sì ti lascio il mio me lo tieni un mesetto? perché io ho dei gatti a casa quindi non so se d'accordo ho un labrador di 40 kg sai che non posso perché ho dei problemi idraulici in casa lo ospiterei però ma portalo il labrador scusa no? ma come lo porto? dove mi viene il male a me di metterlo in una stiva di un aereo no? non sia mai sì è vero ho nove ore nella stiva poverino scende che è un gatto no? allora me lo tieni al ritorno Stati Uniti beh beh altro che un mese e mezzo ci vorrà qualche mese se vuoi farti tutti quei giri lì te lo auguro perché secondo me un mesetto un mesetto e mezzo è un tempo buono poi ti dico ultimamente per una serie di cose sto anche scrivendo poco un po' per il tempo perché sto lavorando tanto quindi arrivo che riesco ad andare in studio solo la sera e sono morto tre sere fa mi sono addormentato così sto scrivendo mi sono addormentato te lo giuro senti ma i testi che argomenti ti intrippano adesso cosa vorresti di cosa vorresti parlare? poi ci sono tante cose di cui parlo nei pezzi non certo non ce n'è una specifica nel senso sono tutti insomma sono proprio come come dire dei flussi di coscienza magari c'è la volta che voglio scrivere una roba un po' più cafona c'è la volta che magari invece voglio parlare a un pubblico femminile come è successo che un po' mi mancava quella roba tra l'altro io avevo solo un pubblico di gente con la tuta prima che va benissimo assolutamente i tuoi colleghi della Daikin i miei colleghi della Daikin e no 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 dimmi interessante questa cosa ti mancava questo tipo di ce n'è un'altra però ci ho bevuto io cazza roba e vabbè chi se ne frega sono mica schizzinoso e sono interista però si attacca si passa questa roba il rischio è quello lì mi fate un bicchiere e no dicevi che ti mancava questo tipo di rapporto col pubblico femminile di scrittura soprattutto si perché ho sempre diciamo che con questo disco qua l'ultimo che ho fatto Sirio un pochettino mi sono allargato anche a livello di appunto pubblico a cui parlare però io prima sono sempre stato uno che cercava l'esercizio di stile la strofa figa con le rime con i doppi sensi perché l'inversione delle sill anche si io fondamentalmente vengo da quello cioè ho fatto tempo a vedere le ultime jam sono andato a vedere la gente che breccava per strada ho fatto anche tante tante gare di freestyle i tempi quando ero capace adesso sono più buono adesso il primo ragazzino che pesco che è in forma mi fa un culo così fidati di me e insomma ti dicevo ultimamente facendo un po' sempre la stessa vita faccio fatica non ho tante idee non sono tanto stimolato non è che mi dia fastidio però vedo sempre le stesse persone per lavoro devi andare di qua devi andare di là vedi sempre gli stessi posti vai sempre a cena nello stesso ristorante che ne so a meno che non devo lavorare sono sempre qua a Milano capito però faccio fatica a uscire perché se esco ci metto un'ora a fare una cosa che magari l'anno scorso ci avrebbe messo 20 minuti forse probabilmente andare un po' via da Milano mi farebbe bene magari sentire influenze di altri posti sentire altra musica mi potrebbe aiutare a ecco avere della creatività nuova finito il tour sì andiamo subito settembre via preparate un cartone di acqua perché sta bevendo come un cammello comunque devo solo cercare qualcuno che mi tiene il cane io speravo in te adesso guarda ti do passo un paio di numeri di miei amici anche amiche se vuoi anche amiche no scherzo con l'abrador è vero un cagnolino il volpino di poverania il volpino di poverania quello è un cane da povero costa 4.000 euro un cane da povero 4.000 euro ammazza ma sì un portachiavi c'era Fendi faceva il portachiavi così col pelo uguale sembra quel cane lì solo che il portachiavi di Fendi non abbaia ma costa uguale ti giuro quel punto dici non lo devi neanche portare fuori te lo metti qua portate un so gli è venuta una sete non lo so togli una curiosità vai ma perché voi io tu puoi mandarmi a cagare sono vecchio sono boomer così ma basta con sto boomer che termine di merda è boomer è l'unico che so ma cosa vuol dire boomer no non lo so perché scusa come si fa e minchia ma sei un boomer mi dice ma minchia sei un boomer è un continuo è un continuo bevi dai bevi no sai che cosa che ultimamente c'è un po' di calcoli e quindi devo bere per forza tutta la coca zero che mi sono bevuto mi ha portato a questo bevi bevi allora portate sta acqua che c'è i calcoli cazzarola sì c'è un po' di sabbia ultimamente dolorini dolorini vari quindi poco simpatici beh ci credo ascolta un attimo la sua degli orologi perché vi piacciono così tanto gli orologi ma no è una curiosità così da scemo ma non lo so guarda tra l'altro come te la posso spiegare allora io mi sono appassionato agli orologi sempre per colpa di mio nonno quello della tastiera quello della tastiera perché mio nonno aveva vinto questo orologio d'oro a carte ok sì che giocava pesante allora mio nonno adesso ti dirò questo aneddoto ti dirò questo aneddoto che fa ridere allora trisdassi ho vinto una tastiera aspetta aspetta senti che ridere mio nonno mandò questo tipo a sposarsi a piedi mandò cioè tuo nonno ha mandato uno a sposarsi a piedi questo si è giocato alla macchina ha perso e poi non si è sposato chiaramente perché è arrivato a piedi te lo giuro ora non so se mio padre alla fine è riuscito a venire in sala ma te lo farei raccontare da lui ha mandato un tipo a sposarsi a piedi questo si è giocato alla macchina a carte con mio nonno e ha perso le chiavi della macchina ho capito tuo nonno era il protagonista della stangata mio nonno era un genio mio nonno era un genio purtroppo l'ho perso tanto tempo fa non è riuscito a vedere cosa ho fatto che non so se sarebbero più i calci nel culo per i tatuaggi o i complimenti di sicuro qualche calcio nel culo per i tatuaggi arrivava ma no ma l'orologio mio nonno aveva questo orologio cosa ha vinto un Patek Philippe no ma va no ha vinto non mi ricordo neanche che orologio era però era un orologio d'oro che puoi immaginare che per un bambino di 5 anni un orologio d'oro è wow e niente questo orologio lui mi aveva detto che sarebbe rimasto a me poi non è rimasto a me è rimasto il pallino dell'orologio ho capito poi col fatto che sono anche investimenti comunque non sono soldi buttati ecco diciamo che mi fa piacere comprarli poi io ho molto la testa in questa cosa degli orologi cioè è proprio una è proprio una cosa che seguo cioè mi cioè sono un appassionato vero sì sì un intenditore sì 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 oggi ero andato prima di venire qua prima di rimanere chiuso fuori di casa scoprire che non avevo le chiavi di casa aspetta cioè il pubblico non lo sa sì sono rimasto chiuso fuori di casa raga sì sì cos'è che ha detto? ho visto le storie mie su Instagram boomer sono caffazzo io ragazzi non ci diamo qualcosa da tirarmi ma che cazzo ma vedi è un continuo è un continuo è un continuo possiamo tirargli qualcosa voi mi date una mano cioè vedi continua e cos'è quella storia lì? sono rimasto chiuso fuori di casa con le chiavi dentro casa sei un po' pirla però sì io sono boomer ma te sei pirla però sì sì un po' vabbè ma stavo parlando degli orologi sì sì ero andato a vedere prima di essere chiuso fuori di casa o subito dopo poco prima ero a vedere degli orologi in un posto in cui mi rifornisco sono andato a vedere se era arrivato qualcosa di interessante il pusher di orologi no no è un po' è una gioielleria di Milano dove ogni tanto vado quando quando esaudiscono delle richieste che gli faccio allora io ti metto in guardia guarda guarda che Aldo ogni tanto va in giro e dice orologi orologi stai attento eh stai attento no? stavo attento no da Aldo eh stai attento gli altri non lo so che non lo metto fatemi sapere quando c'è Aldo che non lo metto dove in che zona abita Aldo? Aldo non si può dire cioè dipende dove deve andare a vendere gli orologi hai capito? dipende no comunque è proprio una passione anzi se poi mai ti venisse la voglia ti do due dritte cioè se vuoi comprarti qualcosa vuoi comprare una cosa giusta ma non sono mica un rapper io vabbè scusami mica ce li hanno solo i rapper gli orologi no lo so ce l'hai anche tu? guarda io ho capito ma adesso non ho sfigato invece ce l'avrai qualcosa non ci credo che almeno un orologio bello non ce l'hai non ci credo mai questo l'ho trovato dentro all'Uovo di Pasqua all'Uovo di Pasqua è vero dai non ci credo veramente non è un orologio bello uno ce l'hai sì ce n'hai più di uno 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 ce l'hai più di uno dai uno 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 e allora che cazzo di domande mi fai scusa no no perché no ma non è tanto no è che mi sembra che che l'artista il cantante il rapper è un po' un segno distintivo al di là della passione ma guarda io ti dico io sono uno che ricerca proprio l'orologio esclusivo cioè che so che ne danno tre io voglio uno uno di quei tre perché so che il mio collega non ce l'avrà capito come cioè lo so che è un viaggio un po' del cazzo però senti senti e pensa che è senza pietre cioè comunque bene vuol dire che hai fatto bene quello lì c'è un orologio c'è un orologio impegnativo di un certo livello comunque io quello lì di un certo livello che ho l'ho comprato in spiaggia guardi che bel Rolex Daytona che ho no parlava così quello che te l'ha venduto era Aldo senti dai prima di prima di di salutarci così avevamo detto che non parliamo di calcio specifico però sia per me che per te il calcio il tifo è una roba è una parte importante della vita no? Giacomo diciamo mamma mia gl'odio guarda però no ascolta ti seguo ti vedo eccetera no? io oramai sono no è una cosa che so che quando parlo di calcio disarticolo il discorso le frasi eccetera però è come se io e te in questo momento potessimo fare un appello soprattutto a chi non segue il calcio ma soprattutto alle nostre donne le nostre mogli le nostre fidanzate che a volte non capiscono quanto soffriamo per sta cosa qua al di là delle vittorie delle sconfitte però cioè quanto si soffre sai che cosa io adesso adesso che sono famoso quella roba lì l'apprezzo ancora di più di andare in mezzo alla gente a tifare capito considera che ringrazio sempre il Milan che mi invita le partite nei posti bellissimi però per me andare ho visto anche in curva però capisci cosa voglio dirti per me andare in curva è proprio un'altra roba cioè sembra di andare a fare un'altra cosa non lo so è ancora più cioè sentirmi parte di un gruppo che in quel momento non ti vede come lazza la star ma come un tifoso di un'altra cosa che abbiamo tutti in comune è una bella sensazione no? cioè una cosa puoi essere te stesso in quel momento lì capisci? ma tu hai cominciato ad andare allo stadio da bimbo o da gara? ma io mi ha portato papà più volte a vedere il Milan da piccolino ma negli ultimi anni mi è tornata proprio la voglia di andare a vedere le partite perché da casa cioè da stare incollato allo schermo non è la stessa roba cioè sentire la gente che urla è un'altra cosa cioè è molto più bello secondo me io oramai invece a causa della mia età pensavo dicevo vabbè va tanto si invecchia e poi ti passa questa malattia qua in realtà è peggiorata è vero sì sì te lo dico te lo garantisco che è peggiorata io appartengo a quella categoria e ne sento tanti può essere tifoso dell'Inter del Milan e dell'innominata anche insomma di qualsiasi squadra innominata l'hai capita adesso? però a un certo punto non tutti ma che non riesci più a guardare la partita della tua squadra non ce la fai più cioè tu accendi la tele quarto d'ora sei con l'ansia ansia? niente e allora vai via vai al cesso fai il bucato anche se non l'hai mai fatto in vita tua cioè fai di tutto non ce la fai adesso ti racconto come ho guardato io i quarti di finale di Champions eravamo in van che stavamo andando a fare la data con Napoli sì eri in van ero in van ma donna che situazione kafkiana e chi è questo kafkian qua? praticamente ce l'avevamo io lui che è il mio personal lui che è il mio seduto di fianco a me che guidava lui che è il mio fotografo dietro e la mia ragazza dietro anche no? con due telefoni uno davanti uno dietro capito come? e a lui gli arrivavano cioè la diratta gli arrivava un secondo prima una roba bruttissima brutto quindi tipo che ne so c'è stato tipo rigore per il Napoli e lui uff io minchia meno male io l'ho imparato io meno male però lui sapeva le robe tipo cinque secondi prima di me ma è stato uno sbattimento bruttissimo poi vedere una partita così seduto in van bruttissimo così la vedi? eh più o meno beh è lontano non posso non vedi un cazzo così? eh così ah nel frattempo la mia ragazza mi fa sapere che sono riusciti ad entrare in casa grande applauso meno male il cane non lo devo portare a casa meno male meno male adesso se riesci vieni qua e portami l'outfit per la puntata scusa mi sa gentilezza lascia stare che vai bene così no no sto scherzando tanto come diciamo sempre ad Aldo come ti vesti ti vesti sei sempre una merda certo senti no vabbè no vabbè condivido con te e credo con molti la paura la passione legata alle partite di calcio io per dire l'ultima partita che ho visto a San Siro che adesso non voglio entrare era una semifinale no stiamo parlando con il mio amico Lazza per favore per favore e secondo tempo quando loro attaccavano i nemici nostri no io non guardavo vabbè aspetta allora io tiro fuori un messaggio di mio padre aspetta non guardavo e mio figlio che diceva papà non guarda no non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio ma anche quelli torna bene ma sei scemo sofferenza allo stato da ricovero mio padre settimana scorsa mi scrive ciao Jacopo tutto ok non riesco più a vedere Nau TV mi chiede la mail e la password e io gli mando la mail e la password la risposta di mio padre è grazie così guardo il tennis visto che se guardo la coppa mi agito e c'era il derby di ritorno quella sera lì cioè giocavate in casa voi vabbè che dobbiamo fa? hai altro da aggiungere? no vuoi farmi una domanda tu hai la facoltà di farmi una o due domande adesso ci pensi me lo dovevi dire almeno me la pensavo facciamo fare un applauso a quello lì che cosa intanto ci pensi no ma mi è venuto adesso Jacopo mi è venuto adesso puoi farmi domande di qualsiasi tipo di religione di politica avrei chiesto tipo cosa fai se ti entra un gabbiano in casa ma è scontato non lo so poi mi date una mano raga io la gamba che gamba è una domanda cioè articola dov'è la gamba com'è la gamba piace la gamba la gamba dov'è la gamba oggi questo qua è un mio amico che sta parlando anche se non vedo questo è Andre sicuro lo sapevo dalla voce ti ho riconosciuto pezzo di fango scontate i tuoi amici non sanno tanto articolare l'italiano però i miei amici non sanno fare niente l'unico che sia salvato sono io comunque per la cronaca la gamba in questo momento è a casa del bastardo Giovanni perché lui si zanza tutti i cimeli dei fincili e tutti a casa lui tutti lui e certo certo corpo perché è un bastardo vabbè non so che domanda farti cosa ti posso chiedere voglio fare una domanda seria a te capita mai di andare a vedere spettacoli di gente che fa il tuo lavoro sì e? sono bravi cioè in senso ti fa ridere come ti fa ridere come una roba vostra ti fa più ridere ti fa meno ridere come una roba nostra non lo so perché noi a differenza del pubblico la viviamo in maniera diversa cioè noi ci divertiamo tantissimo sul palco settimana scorsa eravamo qua abbiamo fatto registrato insieme e grazie a Dio mi viene da pensare quando noi saliamo su un palco possiamo improvvisare su qualsiasi cosa e ci divertiamo tantissimo no? videochiamata rispondi rispondi tu chi è? chi è? il ragazzo ciao amore amore scusa staremmo facendo scusami eh scusami tanto ma no voi ciao no imbarazzata no è be' imbarazzata mi chiamo ho capito no ma ti aspettiamo eh siamo certo siamo in diratta guarda qua diretta poi è a posto la chiave è bene sei entrato tutta a posto? sì ma si può uscire adesso anche di casa o? ascolta il cane sta bene il cane sta bene quello qua guarda qua aspetta aspetta un attimo bello bellissimo come si chiama? cobi no la tua ragazza non il cane Deborah Deborah ascolta un attimo scusami che pianta gli hai portata a casa oggi? che dice che gli sta mettendo lì una giungla sul terrazzo dice che hai portato oleandri mandragore crisantemi mi devi prendere tra un po' eh? i crisantemi mi deve prendere tra un po' gelsomini e limone ha detto ciao scusa finiamo la trasmissione ciao ciao amo salutami Tarzan se lo vedi appeso in terrazzo non hai capito che cinema una serra una lezione di botanica continua la mia vita uno schifo ma è bello dai il verde il verde le piante le cose no 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 proprio tu non hai il pollice verde neanche un po' vabbè signore e signori un uomo che ha avuto la patente a 24 anni ti è rimasto solo questo ma veramente che ha fatto fatica a farsi dare il passaporto che frequenta amici dislessici ma questa sera ma 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 grazie va questo ragazzo ho anche dei difetti quanti anni hai 28 ma va traffanculo guarda mi fa un nervoso questa giovedì questo ragazzo di 28 anni che ha tutti quei difetti lì e degli amici dislessi eccetera però mi ha emozionato stasera grazie Jacopo foto 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 signore e signori un grande applauso dal teatro Oscar all'azza la number one number one ragazzi ve lo posso già dire adesso così sarete pronti col ditino a prenotare i posti ultimo appuntamento della stagione con il podcast il giorno 30 maggio con Fabio Rovazzi ciao a tutti grazie 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 grazie